buon pomeriggio a tutti quanti oggi volevo parlare di un argomento in merito alle targhe cosa si rischia con una targa falsa o alterata sto leggendo parecchi commenti sui social che si sta parlando che sono aumentati l'auto velox in italia non certo è questa la maniera che si riesce a evitare l'auto velox mettendo dei nastri neri sulle targhe far diventare un C a un 8 oppure se non mi sbaglio una C a una G insomma l'unico consiglio che vi do è questo mantenete il limite il limite che sta scritto o a meno che compratevi qualche aggeggio che vi rileva l'auto velox ce ne sono così tanti sia sull'app store sia sul play store a fine video ve li metto in descrizione è un altro consiglio evitate perché c'è ci sono dei costi molto elevati per delle grandi sanzioni se mi sbaglio partono le sanzioni amministrative del codice della strada partono da 2 mila euro fino a 4 mila euro insomma amici se proprio volete evitare questi autovelox andate piano oppure di comprate un bel aggeggino e camminate con soli 4 euro 5 euro si riescono a trovare i migliori sull'app store su play store buon pomeriggio